La mia fantasia ricorrente è che alla carta dei diritti dell'uomo venga aggiunta la voce, diritto all'immaginazione. La vera democrazia non può esistere senza la libertà di immaginazione e il diritto di usufruire liberamente delle opere di fantasia. Per vivere una vita vera, completa, bisogna avere la possibilità di dar forma ed espressione ai propri mondi privati, ai propri sogni, pensieri e desideri. Bisogna che il tuo mondo privato possa sempre comunicare con il mondo di tutti, altrimenti come facciamo a sapere che siamo esistiti? I fatti concreti di cui parliamo non esistono se non vengono ricreati e ripetuti attraverso le emozioni, i pensieri e le sensazioni. Azzar Nafisi è una docente universitaria, costretta ad assistere alla graduale demolizione del suo mondo e delle sue certezze, da parte di un nemico potente e subdolo, la Repubblica Islamica dell'Iran. Le sue lezioni di letteratura inglese, tenute presso l'Università Alamek Tabatabai di Teheran, non sono viste di buon occhio dai guardiani della rivoluzione e, in seguito a numerose pressioni, azzar presenta le sue dimissioni. Nell'autunno del 1995, disilluso da un paese che non riconosce più e al quale non sente più di appartenere, decide di realizzare un sogno, dar vita a un seminario settimanale al quale invita sette delle sue studentesse migliori, giovani donne accomunate dalla passione per la letteratura. Il seminario si terrà ogni giovedì nel salotto della sua abitazione, che diventerà una sorta di luogo magico, lontano dalla realtà, dove ognuna delle partecipanti potrà sentirsi semplicemente se stessa, libera dalle costrizioni e dagli obblighi imposti dal mondo esterno, che per qualche ora alla settimana sembrerà scomparire. L'autrice la definisce l'opportunità di accedere a una libertà senza limiti, quando ogni strada sembra preclusa, perché l'insubordinazione sta nei piccoli gesti, quelli che spesso mancano di teatralità e passano inosservati, come sfogliare le pagine di un libro. Secondo Nabokov, i lettori nascono liberi e liberi devono rimanere, ed è proprio partendo da questo presupposto che la professoressa Nafisi dà vita a una realtà protetta, in cui lei e le sue studentesse possano sentirsi libere di coltivare la propria individualità e le proprie passioni, di lasciarsi andare alle emozioni e ad accessi e discussioni. di riflettere sulla propria condizione e sul futuro incerto, o semplicemente di bere una tazza di tè lodando i lunghi ricci o le unghie smaltate di una delle amiche. L'unico modo per spezzare il cerchio e smettere di ballare con il carceriere è tentare di conservare la propria individualità, ciò che sfugge a ogni possibile descrizione, eppure distingue ciascun essere umano dai suoi simili. Attraverso il racconto degli incontri settimanali con le ragazze, l'autrice ripercorre gli anni della rivoluzione iraniana, la lunga guerra contro l'Iraq, la morte improvvisa dell'aiato l'ha Khomeini, la sensazione di impotenza e di smarrimento di un'intera nazione. La pace, a lungo attesa e invocata, porta con sé il vuoto, l'assenza e il disincanto. La libertà fa paura e fa ancora più paura perché giunge improvvisa e ti costringe a prendere delle decisioni e ad assumertene la responsabilità. La letteratura non era una panacea, ma ci offriva uno strumento critico per valutare e capire meglio il mondo. Gli estremismi della Repubblica Islamica, i suoi orrori e le sue contraddizioni, vengono demoliti a colpi di romanzi, i dorati emissari dell'altro mondo tanto care l'autrice. Petterà a Vladimir Nabokov, Francis Scott Fitzgerald, Henry James, Jane Austen, l'arduo compito di combattere la cecità, l'ignoranza e la violenza, sempre più dilaganti, incarnate nella figura dell'Aliatollah Khomeini, il censore cieco. Una colpa imperdonabile in narrativa è la cecità, il rispetto per gli altri, l'empatia è il fulcro del romanzo. Credo che la figura del cattivo nella narrativa moderna nasca così, con queste stimmate, una creatura senza compassione, incapace di empatia. Così il protagonista, l'eroe del romanzo moderno, diventa qualcuno che difende la propria integrità, a qualsiasi costo, rimanendo fedele a se stesso. Pensiamo a Gatsby, chi più di lui resta fedele alla propria essenza, inseguendo a ogni costo il suo sogno tragico, restando fedele alla sua allusione romantica, alla luce verde in fondo al molo? È così che Gatsby, con quella che Fitzgerald definisce un'està dell'immaginazione, diviene un'arma potentissima contro la corruzione, la repressione, la cecità della Repubblica Islamica. Gatsby possiede una straordinaria propensione alla speranza, che gli permette di compiere l'impossibile. Allo stesso modo, i protagonisti dei romanzi di James, disposti a trascorrere una vita infelice pur di preservare la propria integrità, o le donne della Austin, che si ribellano alla famiglia e alla società per rivendicare il diritto di scelta, diventano leati potenti nella battaglia per l'affermazione di se stessi e dei propri diritti. Tutte le grandi opere di narrativa hanno in sé il nocciolo di una rivolta. La perfezione e la bellezza del linguaggio si ribellano alla mediocrità e allo squallore di ciò che descrivono. Leggere Lolita Teran ci ricorda che la curiosità è in subordinazione allo stato puro e che il miglior modo per saziarla è quello di confrontarsi con l'altro, imparare a conoscere la diversità, farle proprie, arrivare ad amarle. La letteratura ha il potere di abbattere barriere, pregiudizi e ostilità, ci costringe all'incontro con l'altro e spesso arriviamo a chiederci perché questo incontro non sia avvenuto prima. In un mondo in cui è facile perdere di vista i propri obiettivi, abbandonare i propri ideali, dimenticare la propria essenza fin quasi a scomparire, azzarna Fisi da vita un romanzo che racchiude in sé una strana difesa della libertà, un inno alla ribellione e alla resistenza, un invito a affronteggiare il nemico servendosi di un'arma micediale. La letteratura La letteratura